Oggi per le grandi interviste di bioblu.com siamo a Roma insieme al dottor Luciano Barra Caracciolo. Cosa sono i trattati internazionali e come vengono regolati dalla Costituzione? I trattati internazionali sono quello che intuitivamente tutti pensano che sia, cioè sono degli accordi che vengono presi fra Stati. Il trattato internazionale è perché l'ordinamento internazionale è fatto di soggetti che sono gli Stati. Il diritto internazionale è detta regole per gli Stati e non per le persone fisiche. Tra l'altro va precisato che il diritto internazionale ha una sua sfera di diritto superiore, considerato di fonte superiore, che è il diritto internazionale generale o consuetudinario, che è fatto da una serie di regole che si sono trasformate storicamente, di cui le regole più importanti sono quelle delle cosiddette dello just gentium e dello just cogens, cioè le norme fondamentalissime che dovrebbero contraddistinguere la convivenza pacifica e dopo la Seconda Guerra Mondiale con un qualcosa di più la convivenza pacifica e democratica, cioè il riconoscimento della dignità e della parità degli Stati in termini di vera, effettiva indipendenza. Era un mondo precedente, caratterizzato dal colonialismo e da un forte imperialismo, cioè dall'assoggettamento sistematico di altri Stati, quindi la democratizzazione tra Stati è proprio nel riconoscimento della vera indipendenza, della capacità di autodeterminazione, quindi principi come l'autodeterminazione dei popoli, che sono stati dettati proprio per i paesi coloniali, il principio in senso proprio è stato originato dalla necessità di riconoscere una vera indipendenza e capacità di potersi governare nel proprio interesse per i paesi coloniali, principi come la sanzione dei delitti contro l'umanità, quando cioè lo scontro fra Stati nella guerra porta a fatti di dimensioni e di ferratezza, di crudeltà talmente grandi, ricordiamo la Seconda Guerra Mondiale, insomma ci sono stati tanti episodi, che diventa un'esigenza sentita da tutta la comunità degli Stati per sanzionare e impedire che queste cose si ripetano. All'interno di questo, quindi noi vediamo che proprio perché questo è il nuovo tipo di diritto internazionale che nasce così dall'esigenza che non si ripeta mai più quello che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, se non altro, la comunità internazionale si organizza non più con il sistema dei trattati bilaterali, ma cerca di comporre un quadro di organizzazioni internazionali multilaterali. Adesso sarebbe troppo lungo andare a ripercorrere come questo multilateralismo dopo la Seconda Guerra Mondiale in realtà portasse a identificare due blocchi, se tutti ricorderanno c'era un famoso trattato di Yalta che divideva il mondo fra influenza sovietica e influenza grossomodo degli Stati Uniti o comunque delle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale occidentali. Rimane il fatto che il tentativo che nelle organizzazioni internazionali che nascono nel Novecento, perché c'era già stata la Società delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale, il tentativo è quello di creare un'organizzazione cornice, un'organizzazione internazionale, attraverso un grandissimo trattato multilaterale, teoricamente inclusivo di tutti gli Stati che si riconoscono in dei valori comuni, fino ad arrivare a una specie di governo continuo, cioè di governo comune che abbia una sua continuità, che garantisse la pace. La pace, come dice la nostra Costituzione nell'articolo 11, la pace è la giustizia fra le nazioni, perché poi in realtà la pace può essere mantenuta in diverse modalità, per questo si aggiunge nella nostra Costituzione la pace e la giustizia. Perché io posso mantenere la pace? Perché i deboli sono talmente assoggettati dal punto di vista militare e dei rapporti di forza, e anche economico, sono talmente indeboliti che non possono reagire e quindi regna sovrano un ordine autoritario. La giustizia implica che chi sta in pace debba anche stare nella sua comunità, che è destinata ad essere circoscritta da certi confini, debba anche stare bene. E avere che cosa? Cosa significa questo stare bene? Che infatti nelle carte dei diritti dell'ONU, del dopoguerra, vengono affermate. Ad esempio viene affermato il diritto al lavoro e la dignità del lavoro. Questa è una delle norme di use cogens più importanti, per quanto piuttosto oggi dimenticate o reinterpretate o rivisitate fino al punto da essere sostanzialmente svuotate. Noi non abbiamo nessuna riunione d'emergenza dell'Assemblea delle Nazioni Unite per parlare di quanto i lavoratori abbiano peggiorato la loro condizione, di quanto sia aumentata la disoccupazione, e specialmente perché sia aumentata o di quanto è aumentata la precarizzazione. Non è una priorità. Se c'è anche altre forme di organizzazione, di coordinamento organizzato economico, che sono dei trattati particolari, un po' più fluidi dell'ONU, come i G20, i G8, non è che il primo posto, il primo punto. Siamo preoccupatissimi del peggioramento delle condizioni di vita delle masse occidentali. No, normalmente, come vedete, parleranno di stabilità finanziaria, misure per la crescita, che sono invariabilmente diversi dosaggi di politiche a favore delle imprese. Riduciamo il costo del lavoro, riduciamo gli oneri fiscali, riduciamo la spesa pubblica in modo da poter procedere a sgravi fiscali, liberalizziamo. Questa è l'agenda invariabile tra Fondo Monetario Internazionale, che pure nasce nel quadro degli accordi cosiddetti di Bretton Woods, quindi con tutta un'altra idea, un'altra mission originaria. Insomma, il Fondo Monetario Internazionale, che ne so, l'Ocse, le stesse organismi e agenzie economiche delle Nazioni Unite, ce ne sono varie di agenzie che si occupano di vari aspetti del lavoro, comunque proprio dello sviluppo economico, tendono a usare questo linguaggio, a avere queste priorità, che sono scollate dalle priorità che furono fissate nel dopoguerra. In questo quadro delle organizzazioni internazionali si colloca apparentemente, dico io, la costruzione europea, che nasce dal 1949 in poi, ci sono vari trattati che progressivamente si afferma, prima si vuole fare un Consiglio d'Europa, poi si fa la Unione dell'acciaio e del carbone, l'Euratom per mettere insieme i vari mercati o comunque la ricerca nel campo nucleare, poi si arriva nel 1957 al Trattato di Roma del MEC, cioè il Mercato Europeo Comune. Come vedete, l'idea che poteva portare sotto l'ombrello della nostra Costituzione queste organizzazioni internazionali, cioè questi trattati che istituiscono organizzazioni internazionali, che appunto è il modo che abbiamo visto che dovrebbe tendere, ecco nel nuovo diritto internazionale, a sostituire i trattati bilaterali, cioè ognuno si mette d'accordo col vicino o fa la pace con quell'altro che non gli è simpatico, ma insomma i trattati bilaterali sono più caratteristici di un modo precedente, meno cooperativo si dice, per cui questa idea cooperativa sembrerebbe che la cooperazione, ecco l'idea fondamentale è che la cooperazione economica favorirebbe le buone relazioni internazionali, quindi più gente, specialmente o meglio più stati in condizioni di vicinanza fra loro metto a cooperare fra loro, più mi garantirò che quel gruppo di stati, quella zona del mondo in cui sono questi vicini, dovrebbe essere pacifica, reciprocamente pacifica, ma è vero che la cooperazione economica anzitutto porti invariabilmente sempre e comunque al miglioramento delle relazioni politiche fra gli stati e specialmente è realizzabile tramite, o meglio se è invariabilmente porterebbe a questo, quindi noi non dobbiamo preoccuparci dei contenuti, cioè delle soluzioni di cooperazione economica che vengono individuati, ecco questo è un problema, il problema in realtà se lo pone la nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione non dice qualunque organizzazione internazionale è lecita secondo per l'Italia, Repubblica, Democratica e fondata sul lavoro, ma solo quelle che promuovono la pace e la giustizia delle nazioni in condizioni di parità con gli altri stati. Ora invece la cooperazione economica risponde a dei criteri normalmente diversi, perché al di là di quello che è il motore ideologico e anche gli interessi materiali che spingono per la promozione di queste organizzazioni internazionali che in particolare contraddistinguono la costruzione europea, ci si mette su una strada diversa, che è quella dell'allargamento del mercato e quindi sulla libertà degli scambi all'interno di aree che dovrebbero tendenzialmente diventare sempre più ampie e includere tutta l'Europa. Noi siamo arrivati al punto che sono arrivati a voler includere persino l'Ucraina, infatti è nato un enorme problema. E però l'effetto del libero mercato, cioè l'effetto del free trade, non è così innocente, tant'è vero che ai tempi del trattato del 57 i laboristi, che allora erano evidentemente un po' meno, come dire, pro-mercato di oggi, i laboristi inglesi assumessero una posizione durissima, critica. In Italia lo fece anche l'Elio Basso, lo fece di Vittorio, sulla costruzione europea. Perché l'idea del libero mercato, di per sé, porta all'interno di quel mercato quali che ne siano le soluzioni di dettaglio. Diciamo, è l'idea generale della liberalizzazione, quindi dell'abolizione dei limiti doganali, di una certa agevolazione della circolazione o dell'insediamento delle imprese, della possibilità anche di muovere capitali all'interno di questo... Poi sono cose che sono state realizzate progressivamente e sempre più accentuate. Ma insomma, comunque, queste sono le linee di sviluppo dei trattati di libero scambio, cioè di creazione di mercati di libero scambio. Porta inevitabilmente all'applicazione della cosiddetta legge o comunque principio dei vantaggi comparati, che è un principio ricardiano, che anche se è stato riformulato secondo le teorie più moderne, Excher, Olin, Samuelson, e grosso modo si basa su questo principio, che diciamo è riscontrabile, piuttosto precisamente riscontrabile in quello che è stato l'effetto, quantomeno a partire da Maastricht, atto unico, facciamo così, dalla fine degli anni Ottanta. ciascun paese tenderà a produrre ciò per il quale ha un vantaggio di costo e quindi è più competitivo, lasciando agli altri paesi che sono meno competitivi le produzioni meno lucrose, cioè quelle che hanno meno valore aggiunto. sostanzialmente quindi l'effetto inevitabile dei vantaggi comparati è una graduazione che accentua la forza del forte e la debolezza del debole. Quindi il paese economicamente più forte all'inizio dell'applicazione di un trattato di libero scambio diventerà ancora più forte, facciamo un esempio Germania. Il paese più debole diventerà sempre più debole e è un paese medio forte come era l'Italia, certamente ne viene indebolito. È un meccanismo implacabile. Tutto questo è riscontrabile per esempio nei trattati fondamentali che attualmente governano diciamo da Maastricht in poi vorrei parlare anche dell'atto unico come matrice di Maastricht, è un po' trascurata questa. L'atto unico entra in vigore nel 1987 e viene trattato nel 1986 ed è proprio il contratto preliminare si direbbe in diritto civile cioè quello che predetermina i contenuti di Maastricht quasi con esattezza diciamo millimetrica. Sì gli effetti si vedono e le previsioni dei trattati sono riscontrabili. La norma più importante sia della Costituzione diciamo i precetti più importanti sia della Costituzione sia dei trattati sono per una strana come dire coincidenza della storia sono tutte e due rinvenibili nei rispettivi articoli 3. Per esempio per il trattato europeo che oggi si chiama Trattato sull'Unione Europea 2 che poi è dopo Lisbona è un'incorporazione in modifica di Maastricht con Lisbona poi si arriva a fare un testo consolidato che è appunto il testo unico il testo sull'Unione Europea il trattato fondamentale sull'Unione Europea è l'articolo 3 paragrafo 3 in cui praticamente si dice che l'Unione Europea instaura un mercato unico caratterizzato da un'economia sociale di mercato fortemente competitiva è basata sulla stabilità dei prezzi e già qua bisognerebbe saper leggere questa previsione così importante una cosa la sappiamo perfettamente che non parliamo di cooperazione la cooperazione è più un obbligo degli stati a cooperare affinché si realizzi questo modello cioè dell'economia sociale di mercato fortemente competitiva basata sulla stabilità dei prezzi quindi la cooperazione sta nel come dire assecondare o sottomettersi a questo modello ma il modello in sé non è cooperativo lo dice il suo stesso la sua stessa veste elettorale eletterale cioè il suo testo significa che chi è che deve competere devono competere i sistemi Stato te lo dicono tutti nessuno lo nega questo cioè gli stati coinvolti in questo trattato devono fortemente competere fra loro e presumibilmente devono competere fra loro proprio presumibilmente prevedibilmente scusate prevedibilmente devono perché è una legge diciamo quasi empirica ma quasi inevitabile attraverso il sistema dei vantaggi comparati quindi sarà una competizione reciproca per prevalere e scendere nella nella gerarchia della creazione del valore aggiunto quindi nell'accaparrarsi le produzioni e i settori di mercato più importanti a scapito degli altri quindi questo tipo di senza poi andare ad analizzare cosa significa che si cerca la stabilità dei prezzi e anche un regime tendenziale di piena occupazione stabilità dei prezzi e piena occupazione sono un concetto particolare cioè io so anzi chi ha scritto i trattati sa sapeva perfettamente che non non è possibile portare l'inflazione a un target viene chiamato così molto basso quindi ridurre l'inflazione e stabilizzarla su un livello tendenziale io cercherò di non avere oscillazioni da quel livello per paesi che oltretutto tutti insieme partivano da un'inflazione più alta ma c'è chi partiva da un'inflazione molto più alta e altri meno più alta quindi già quell'operazione di arrivare alla stabilità dei prezzi significava perseguire politiche di deflazione che per definizione tendono all'amplificazione della disoccupazione di